Salve a tutti ragazzi, qui è Joseph Gamer e benvenuti finalmente su Dragon Ball Fighters. Ragazzi miei, sono qui nel gioco completo in anteprima per voi. Sia io che Tuberanza e probabilmente presto anche il carissimo Blaziken68, vi faremo davvero tanti video su questo gioco e domani, ore 14 e 30, ma forse anche un po' prima, uscirà il primo video della storia. Questo video non contiene spoiler, quindi potete guardarlo tutti dall'inizio alla fine. Mi raccomando, ci sarà davvero da divertirsi, superiamo assolutamente i 5000 like, quindi pollice in su e soprattutto iscrivetevi ora al mio canale YouTube, attivate la campanella delle notifiche, altrimenti vi perderete tutta la serie su Dragon Ball Fighters. Direi quindi di iniziare subito, nel corso della storia esploreremo al massimo l'intera zona principale, come vedete è tutto completamente esplorabile, ma ora non voglio farvi troppi spoiler, ci giocheremo direttamente una serie di partite nell'arcade mode, che è una zona in cui possiamo fare degli scontri senza effettivamente fare una vera storia. Ed eccoci qui alla selezione del personaggio. Prima di scegliere i personaggi vi ricordo una cosa fondamentale, ovvero che ho realizzato finalmente le mie magliette, e le lancio proprio in occasione di Dragon Ball Fighters. Quindi ragazzi, mi raccomando, vi lascio il link qui sotto in descrizione, cliccate il link per andare a vedere la maglietta. Ci sono tanti colori, tante taglie, poi a maniche lunghe, a maniche corte, la maglietta vero Saiyan deve essere vostra. In ogni caso andremo a scegliere un po' di personaggi, proveremo anche dei personaggi nuovi, molto probabilmente, e tra questi voglio assolutamente Goku nella sua versione Super Saiyan, poi voglio Vegeta, e poi ragazzi proveremo, magari che dite, Black Goku Super Saiyan Rosé? Io direi proprio di sì. Tranquilli, poi altri personaggi, li vedremo successivamente. Qui dobbiamo fare praticamente il livello 3, quindi dovremmo fare diverse vie, diversi percorsi. Abbiamo la via del serpente, estrema gravità e stanza dello spirito del tempo. Facciamo questa qui iniziale, giusto per imparare un attimino a giocare, ma io ragazzi ve lo dico, eh. Diciamo che nella beta mi sono allenato molto molto bene, quindi riuscirò a dare molto probabilmente tante mazzate ai nemici. Ed eccoci qui alla primissima battaglia. Noi siamo la squadra rossa, affronteremo la squadra blu, e di sicuro li malmeneremo tutti, dal primo all'ultimo. O almeno ci provo, eh. Ed eccoci qua ragazzi, sono carico più che mai. Io vi ricordo che questo è solo un primissimo gameplay, davvero molto semplice e basilare. Poi dopo faremo la storia, faremo tutte le missioni, ragazzi, proveremo tutti i personaggi, vedrete il gioco al 100% sul mio canale, eh. Quindi direi finalmente di iniziare. Io sono troppo contento di provare il roster al completo. Dopo tante prove nella beta, ragazzi, era davvero ora. Io, come vedete, mi lancio subito sul nemico, che sembra non riuscire minimamente ad attaccare. Forse perché, ragazzi, sono... Non so, abituato a personaggi molto più forti. Cioè, ragazzi, ma qua ci portiamo a casa probabilmente un perfect. Cioè, guardate, io giocando online nella beta, ero abituato a livelli molto più difficili da sostenere. Invece qua, guardate, i personaggi sembrano non voler attaccare. Cioè, davvero assurda come situazione. Guardate, mi basta avvicinarmi un po' e li malmenere in maniera incredibile. Tranquilli, direi che è il caso di cambiare anche un po' personaggio. Ho messo Vegeta, riesce un attimino a pararsi, e finalmente mi ha dato un colpo. Io ero anche convintissimo di fare un perfect. Gli vado così vicino, lo malmeniamo un po', e anche il Vegeta nemico va a terra. Mamma mia, ragazzi, lo stiamo devastando il gioco, non lo so. Lo stiamo malmenando sul serio. Io vado con un Bing Bang Attack, abbiamo la Kamehameha, e poi abbiamo anche Rosé. Ragazzi, mamma mia, finalmente quello qua, Black Goku Super Saiyan Rosé. Io direi però, ragazzi, che lo proveremo successivamente molto, molto meglio, eh. Io adesso voglio solamente farvelo vedere un attimino, come combo mi sembra figo, ma non abbiamo visto praticamente nulla. Poi farò un video dedicato a lui, quindi per ora ci concentreremo più o meno su quest'arcade mode, e su Goku e Vegeta. Ed eccoci qua, vittoria portata a casa la grandissima, abbiamo ottenuto il grado S, ma come minimo. Ho l'impressione che sarà tutto molto semplice per noi, eh. Non so perché siamo andati da questo lato e c'è Vegeta Super Saiyan Blue da sfidare. Eccoci qua. Finalmente vediamo un nuovo scenario, che nella beta ovviamente non c'era, e guardate quanto è figo sto scenario. Sarà uno scontro interessante. No, raga, mi sto gasando troppo. E guardate Vegeta Super Saiyan Blue! Finalmente lo vediamo! Finalmente ce l'ho tra le mie mani. Finalmente! Affrontami Kakarot! Ragazzi sono gasato al massimo. Vedremo se un semplice Super Saiyan può sfidare un Super Saiyan Blue. La mia idea è ovviamente sì. Poi vedremo, eh. Oh, mi sta dando un po' di colpi. Finalmente il gioco si sta svegliando un po', probabilmente. Vediamo se riusciamo ad attaccarlo come si deve. Teletrasporto. Cerchiamo di inseguirlo e andiamo ancora avanti. Mamma mia ragazzi, tanta roba. Quanto è figo sto Fighters. Poi abbiamo le animazioni e tutto il resto. Oh, stava per farmi una Suprema, eh. Non me ne ero quasi nemmeno accorto. Però lo colpiamo in pieno. E quindi Vegeta mano a mano sta subendo un botto di danni. Io vi dico da subito che questo è il mio primissimo vero gameplay sul gioco completo. Poi ragazzi, devo assolutamente migliorare. Cercherò di migliorare davvero tanto, ragazzi, ve lo prometto. In modo tale che vi possa offrire un bel gameplay godibile. E chi lo sa, un giorno anche forse in maniera competitiva. Vedremo, io ci proverò. Cercherò di fare assolutamente del mio meglio. Però, nel frattempo, malmeniamo assolutamente Krillin. Che, come vedete, è praticamente qui all'angolo. Forse riesco un attimino a colpirlo meglio. Vediamo che arriva anche Vegeta, ma Krillin è riuscito a pararsi. Quindi buttiamo anche lui giù. Ora dovremo eliminare. C'è 18. Sto parlando un botto, ragazzi. Lo notate? Sono parecchio gasato. Anche perché, a essere sincero, non mi viene nemmeno da concentrarmi più di tanto. Perché il nemico è abbastanza debole. È sicuro che ci porteremo la vittoria a casa. Quindi non conviene un attimino nemmeno concentrarsi. Allora, io vorrei provare a colpire così. Bing bang. Purtroppo non l'ho colpito. Oh, e continua a farmi dei danni però lei, eh. Va bene. Allora sapete che vi dico. Vado con Goku. E ci provo con la super Kamehameha. Presa in pieno. E io direi di provare ad ottenere più energia. Ricarichiamoci completamente se ci riusciamo. Quindi, la colpisco. La mando in aria. No, no, no. Scendi Goku. Qua dobbiamo concludere come si deve. Vai così. Col super Saiyan di terzo livello. E vai con la tua super Kamehameha teletrasporto. Vai, devastalo! Vi voglio nei commenti con l'hashtag devastalo. E guardate lo scenario. Che cos'è? Ragazzi, siamo su un meteorite gigante o cosa? Troppo figo. Io sono gasato al massimo e non vedo l'ora di farvi vedere la storia. Ragazzi, con la storia ci divertiremo un botto. E quindi un'altra vittoria portata a casa col grado S, ovviamente. Quale sarà il prossimo nemico? Vediamo un po'. Andiamo direttamente a quello finale? Abbiamo, ecco, un Maginundio e... Non ho letto cos'altro c'era. Praticamente, ragazzi, questa squadra forse è un po' più complicatuccia, eh. In ogni caso, ve lo dico, ho la certezza che le distruggeremo comunque, eh. E guardate quest'altro scenario. Ragazzi, stiamo scoprendo tutti gli scenari nuovi. Ragazzi, come sono gasato. Ed eccolo qua! Guardate come entra in scena! Questa animazione l'avevo già vista, ma vederla così è assurdo. Magnifico. Quindi è questa la forza di un Saiyan. Tra l'altro, ditemi se, nella serie, volete il doppiaggio inglese o giapponese. Eh, io tenderei a quello giapponese, eh. Poi vediamo un attimino anche insieme. Io proverei a colpire assolutamente sto Black che... Come vedete, riesce subito a concatenare un po' di combo. Mamma mia! Ma è cattivissimo! Oh, ragazzi, mi ha eliminato Goku! Oh, ma veramente! Ragazzi, Black Goku è OP in maniera assurda! Beccati sto Bing Bang direttamente in faccia. E ora tocca a me attaccare, zio. Mi dispiace, ma qua i colpi te li becchi sul serio. Oh, 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 oh! La Suprema! Ma che sta succedendo? Ragazzi, è fortissimo! Mamma mia, ragazzi. Io non pensavo di andare incontro a una roba del genere. E io che pensavo di poterci andare in maniera molto, molto semplice. Cambia personaggio, va. Metto anche io sto Black Goku. Così provo ad abbattere assolutamente quello nemico. Vai così. Teletrasporto. Benissimo. Lo inseguiamo. Non ci sono riuscito, ma ci provo ora. Vai che lo colpiamo. Benissimo. Ora gli restano solo due combattenti. Io non pensavo di dover ricorrere effettivamente ad un terzo combattente. Però, vediamo. Mio caro Kid Buu, ti becchi gli schiaffi. Molto bene, vai. Continua a colpire così. Guardate che lame! No, raga, ma io non ve lo voglio spoilerare troppo, però, eh. Che così vedete troppo del personaggio. Io voglio poi farci dei video dedicati, tutta sta roba qua. Che sicuramente sarà molto, molto piga. Allora, Kid Buu purtroppo si è parato. Riesce un attimino a metterci in difficoltà, eh, l'avversario. Cioè, ragazzi, il gioco qui mano a mano inizia a farsi tosto. Mamma mia, mi ha mangiato alla grande! Ragazzi, si vede che ho bisogno di allenamento, eh. Secondo me mi sono rilassato troppo, perché, ecco, negli scontri online io ero molto, ma molto più frenetico. Invece qui mi sono rilassato davvero tantissimo pensando che il gioco fosse molto base qua, eh. Vai così. L'arcade mode, ragazzi, sicuramente ci farà divertire un botto, considerando che faremo tanti, tanti scontri. Allora, io mi avvicino subito al nemico. Tanto siamo uno contro uno, già un attimino ora siamo più equilibrati. Ricarica l'energia. Mamma mia, non posso fare nulla. Eh, mi sono beccato in faccia il colpo. Va bene, va bene, va bene. Non è un problema. Teletrasporto, benissimo. Vai che lo malmeniamo. No, 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 no. Devo continuare così a colpire, ragazzi. Oh, mi sta facendo malissimo. Raga, qua mi devasta. Teletrasportati. Premo il tasto. Ce l'ho fatta. Ragazzi, pensavo di essere finito e invece ce l'ho fatta. Non ci posso credere. Raga, sono contentissimo. Sono contentissimo e vai con la mossa. Colpiscilo. È ancora vivo. Non ci credo. Eliminalo. Mamma mia. Vai, ragazzi, che la vinciamo subito alle spalle. Raga, che vittoria. Stavamo per perdere e ci siamo comunque portati la vittoria a casa con la conclusione distruttiva. Se non ci vuole qui un devastalo, non vedo dove altro dovrebbe esserci, no? Quindi tutti con l'hashtag nei commenti. Questo dolore mi renderà più forte. È una roba assurda. Che scontro. Io, ragazzi, sono gasatissimo e il grado è D. Va bene, c'è andata male. Stavolta non è che ci sia andata un granché, però comunque ci fa le congratulazioni il gioco per aver completato il tutto al massimo. Va bene, il punteggio totale è 630 qui, grado A, quindi non male, ma io punterò a di più, eh? Maestro, via del serpente. Se completiamo tutti i percorsi, possiamo ottenere Goku Super Saiyan God Super Saiyan e Vegeta Super Saiyan God Super Saiyan. Quindi, vedete, alcuni personaggi vanno addirittura sbloccati all'interno del gioco. Vi ricordo che la storia arriva domani sul mio canale qui alle 14, 14 e 30. Probabilmente per un qualche giorno ci saranno due episodi al giorno della storia, eh? Quindi vi voglio carichi al massimo. Mi raccomando, ragazzi, iscrivetevi ora al mio canale YouTube cliccando qui al centro e guardate altri video presenti sul mio canale cliccando qui a destra e sinistra. Guardate anche come evocare il Drago Sharon e l'ultimo episodio di Dragon Ball AF. Sicuramente vi piaceranno entrambi i video. Quindi alla prossima, ciao!